Si chiama a lezione dal prof in ballo ma a salire in cattedra questa volta saranno gli studenti delle scuole di Montesilvano che spiegheranno l'economia circolare. I ragazzi del liceo d'Ascanio terranno una lezione di riciclo con i loro colleghi più giovani e anche gli alunni della scuola elementare Silone avranno il loro ruolo volto a informare e sensibilizzare i visitatori. Quest'anno abbiamo scelto di fare questo progetto che coadiua sia l'aspetto scolastico che l'aspetto ambientale, quindi abbiamo scelto di far formare dei ragazzi che poi a loro volta informeranno la cittadinanza e i loro coetanei su quello che è il mondo dei rifiuti. La fiera dell'imballaggio sarà al Paladin Martin dal 19 al 21 maggio e si rivolge non solo alle scolaresche ma anche alla cittadinanza. La mattina sono previsti percorsi didattici e nel pomeriggio workshop formativi per aziende. L'esigenza di questa nuova fiera che abbiamo chiamato figa dell'imballaggio scaturisce dal fatto che ci sono tanti imballaggi nuovi che negli ultimi anni si stanno cominciando a produrre e di cui non si ha consapevolezza come le bioplastiche, le plastiche biocompostabili, le plastiche biodegradabili, cioè che non sono più di origine fossile derivate dal petrolio ma sono di origine naturale o cellulosica. e quindi abbiamo voluto centralizzare il focus su questi aspetti, cioè dove sta andando l'imballaggio, cosa sta succedendo nel mondo degli imballaggi.